Una nuova Madonna nella roccia nel Cilento. La figura che effettivamente richiama l'immagine sacra è nella grotta di San Michele Arcangelo nel comune di Casella in Pittari. Alcuni fedeli in visita hanno avvisato Rocco e Torre, presidente dell'associazione Valorizziamo Caselle. Ci troviamo nella rotta di San Michele Arcangelo in Casella in Pittari, sul Monte Pittari. E qui dentro questa roccia come rappresentasse la sagoma di una Madonna. E qui infatti vediamo il volto della Madonna, che praticamente c'è la forma del naso, c'è la forma degli occhi e questo rappresenta il corpo. Io da tante anni che venivo qui a San Michele da piccolo non mi ero mai accorto di questa sagoma. Mi è stato segnalato di questa figura, di questa sagoma che rappresenta una Madonna e di conseguenza venendo qui proprio ieri mattina sono venuto qui nella rotta di San Michele e osservando con attenzione mi sono accorto che effettivamente questa segnalazione è molto fondata. Ci sono le dita, ci sono i braccio, c'è tutta la sagoma, diciamo tutta la forma di una sagoma di una Madonna. Diciamo di una persona, ecco. Dalle immagini si nota appunto il colore diverso della roccia che è più chiara invece di essere grigia. Una figura intera nella quale si evidenzia nel volto, il mantello, le dita delle mani e i grani chiari del rosario. È una Madonna? Per i pellegrini la risposta è chiaramente affermativa. Dopo la scoperta della Madonna nella roccia a Casaletto Spartano, anche Casella in Pittari può vantare la sua nella grotta di San Michele Arcangelo.